Una giornata di sole ha accolto al Parco Pertini di Arezzo la Festa dell'Energia, che ha visto il coinvolgimento di numerose società sportive sponsorizzate da Estra. Il programma ha visto lo svolgimento della Festa degli Aquiloni e il grande gioco ambientale dell'Oca. Quindi i giochi sportivi con le associazioni di Estra Sport Club, Alga Etrusca Atletica, Baseball Club Arezzo, Polisportiva Albergo Oliveto, Scuola Basket Arezzo, Vasari Regbi Arezzo. La tre giorni dell'Energia, promossa da Estra in collaborazione con Lega Ambiente e giunti i progetti educativi, vede svolgersi l'ultimo appuntamento al Parco Ducci con Bim Bim Bici, pedalata per le strade di Arezzo a cura della FIAB. Insieme alle numerose iniziative, quali sono i principali valori che si vuole far passare tramite questa festa? I valori sono del rispetto dell'ambiente, del rispetto della natura, dell'attenzione al risparmio energetico perché essendo attenti all'ambiente possiamo avere un futuro migliore. In fondo ricordiamoci che il mondo nel quale noi viviamo lo abbiamo avuto in prestito dalle generazioni future e quindi è su questo che crediamo tutti dobbiamo investire. Un'azienda come Estra, che è un'azienda pubblica, sente il dovere non tanto di investire risorse per farsi pubblicità magari con grandi attori di livello nazionale, ma quelle risorse investire nei territori facendo crescere la sensibilità a queste tematiche, quindi facendo crescere le nuove generazioni, ma anche tutti quanti noi perché ogni tanto ricordarsi che risparmiare energia è utile, è importante e anche ci aiuta qualcosa nelle tasche e nei conti delle nostre famiglie in un periodo come questo ne abbiamo tutti bisogno. Credo che sia un valore importante, il quale Estra vuole essere testimone ricordandosi le sue radici che sono in queste terre e volendo portare quindi il suo contributo di grande azienda ormai di livello nazionale proprio con una ricaduta in questi territori. Grazie.